A Cordiniano la Lega rischia il psicodramma per le prossime elezioni per Sindaco e Consiglio Comunale. Con la presentazione di questa mattina si ufficializza la discesa in campo dell'ex Sindaco e attuale Assessore della Giunta Biz, Roberto Campagna. Dopo due mandati mi ricandido perché ho avuto questa richiesta da parte delle forze politiche che sostengono Cordiniano Viva, la nostra lista civica. Noi siamo appoggiati, la lista Cordiniano Viva è appoggiata dalla Lega per Salvini e da Forza Italia, un progetto iniziato 15 anni fa, ha dato credo dei risultati positivi per il nostro comune e quindi io vorrei continuare su questa strada. In contemporanea però voci sempre più insistenti danno il Sindaco uscente Alessandro Biz pronto a correre per il secondo mandato, forte del consenso ricevuto in questi cinque anni e in particolare per la gestione delle alluvioni del 2018 e soprattutto del dicembre dello scorso anno. Anche Biz sarà il candidato di una civica e anche qui l'appoggio dovrebbe essere della Lega e di Fratelli d'Italia, comunque esterno, e come campagna senza loghi di partito sulla scheda elettorale. Quindi due candidati dello stesso partito, nello stesso schieramento di centrodestra e appartenenti alla stessa giunta che ha governato Cordiniano per cinque anni. Abbastanza per confondere gli elettori e per non pensare ad un intervento immediato del gran mediatore Gianangelo Boff, che forte del successo di Conegliano ora si trova nel paese dei Carbonai a dipanare un'altra matassa politica decisamente complicata.